io mi sono chiesto ma che succede se combiniamo tiro potente e in più il il tiro con la velocità attiva cosa succede non mi riuscivo a alzare la porta da terra si buona notte ah è vero allora non gli ho disattivato ma che cacchio ha fatto? no un'altra opportuna non c'è un segreto finché non finisco i gambe tiro io? no primo quasi segnato no noi ce li proviamo io voglio elettronamente spaccare la porta ho ucciso qualcuno usci riprovo oh porca miseria ma io voglio bugare tramite la porta così fallissimo e una senfortuna morirò Oh! Yeeeey! Oddio! Oh! Signata! Devo stare a una pena a distanza Uno, come and play some of the game Come and play some of the game Che pang Che pang Che pang Che pang Che pang Che pang Mamma mia, si entrava Che senso me l'ha parata? Oh no, lo giuro, prima sono riuscita a fare una cosa epica Che è il motivo per cui so approvare questa cosa ho finuto non riuscire a fare la stessa cosa avevo fatto prima no, non ti ho fatto per terra non era questo si, proprio l'ho fatto riparire la ripartita passa via ok ora è un'olio riesco va a riavano basta non il mio diritto non può essere sbagliato se non ci riesco mi metto la clip che ho fatto quella cosa che ho fatto prima se non ci riesco mi metto la clip dal vivo proprio se mi sento io qui ha bucato la porta ha bucato la porta ha bucato la porta qualcuno ma cosa è passato attraverso la porta tutto vivo passa attraverso la porta eh perché si c'è quindi ho sfatato un mito nuovo perché non penso che la sapevano non 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 la non 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 la buce mia me la taglia mi ha fatto il peggio il peggio io spero che non succeda anche con questo perché sono sclero e vabbè ci vediamo al prossimo video bella